buongiorno a tutti allora in questo video andremo a fare un rilievo con la lecker andremo a rilevare le cinque frequenze positive del Diorigenia prima frequenza armonia umana e abbiamo la prima frequenza seconda frequenza canale tellurico positivo perfetto terza frequenza quarta frequenza sinergia cosmico tellurica positiva ultima frequenza sinergia globale dei prodotti con gli esseri viventi perfetto abbiamo rilevato le cinque frequenze quindi Biorigenia è efficace per quanto riguarda le cinque frequenze positive utili per tenere l'equilibrio nei confronti di campi elettromagnetici ma soprattutto geopatie grazie e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti